In occasione dell'anniversario della strage dei Giorgofili rivolgo un pensiero deferente alle vittime dirette e indirette di questa strage che ha lacerato i cuori della società civile di tutto il Paese. Assicuro che l'ufficio continua e continuerà sempre con maggiore impegno anche a così tanti anni di distanza a svolgere tutto quello che è possibile come accertamenti e come indagini per fare sempre maggiormente luce su quell'orribile delitto. Infine un commosso e deferente pensiero alla Presidente Maggiani Kelly che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni la cui opera rimarrà indelebile anche e soprattutto in direzione della ricerca della verità.